ciao a tutti ragazze e ragazze bentornati sul mio canale io sono Giorret e oggi parliamo del collegio 5 terza puntata colpo di scena al collegio 5 la terza puntata da reality si apre con un'espulsione aurora morabito la ragazza che dopo il taglio di capelli aveva avuto una vera propria esplosione di ira nei confronti del sorvegliante mandandolo a quel paese è stata espulsa il preside dopo aver radunato sia i professori e i sorveglianti per far punto della situazione nel collegio ha scoperto dell'accaduto e non poteva non di certo prendere atto delle azioni della studentessa parole dure quelle rivolte dal preside ad aurora che sostiene che la ragazza sia l'artefice di alcune situazioni create dentro il collegio ed è la prima ad aizzare gli altri la risposta della ragazza è stata che l'affermazione fatta al sorvegliante è stata fatta perché lei stava male ma il preside non ha voluto sentire ragioni confermando l'espulsione della ragazza ed è allora che aurora ha riservato la stessa affermazione fatta al sorvegliante anche al preside e voi siete dispiaciuti per questa espulsione scrivetene commenti ditemi la vostra per il momento concluso il video se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da joe islare islare allare ami илare è